Musica Vediamo insieme quali sono i titoli dei quotidiani web regionali e partiamo da Olbia Nova. Mater Olbia in regione non è mai arrivata a nessuna richiesta di apertura. E' stato dunque un incontro a vuoto quello di ieri mattina a Cagliari tra i rappresentanti della regione Sardegna e quelli della Qatar. Dunque mentre si avvicina la scadenza fissata al primo dicembre per l'annunciata apertura del reparto di pediatria nessuna richiesta è ancora stata depositata negli uffici regionali. La domanda di apertura è il primo passo propedeutico all'avvio delle procedure per l'accreditamento della struttura. E proseguiamo con sassari notizie migranti diamoli le terre incolte della Sardegna. L'idea è di quelle che faranno discutere, sorridere e probabilmente anche arrabbiare. Dalle colonne delle New York Times Beppe Severgini propone pur con tanti distinguo e riconoscendo le problematicità dell'idea che ai migranti in fuga dalle loro terre vengano assegnate quelle incolte dell'Italia e fra queste anche quelle della Sardegna. Il Latv.it ad Oristano il sindaco Tendas contro la chiusura del Tribunale. Lo Stato vuole condannare il territorio della provincia di Oristano alla retratezza e al sottosviluppo privandolo di servizi fondamentali e facendolo tornare indietro di decenni. Sono queste le parole del sindaco di Oristano Guido Tendas che manifesta forte preoccupazione per la possibile chiusura del Tribunale di cui si starebbe discutendo a Roma con una commissione ministeriale preseduta dall'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Michele Vietti. Le cronache nuoresi faceva prostituire sudamericane nel proprio appartamento e stato arrestato un allevatore di Macomere, un 48enne pregiudicato, con l'accusa di favoraggiamento e sfruttamento della prostituzione. In sostanza MC di cui vengono date soltanto le iniziali faceva arrivare le donne dalla penisola e dalla Spagna e le faceva prostituire all'interno della propria abitazione durante tutto il giorno. Le indagini sono partite circa sei mesi fa dopo alcune segnalazioni che sono pervenute da parte degli abitanti della zona. Ed ancora Vistanet.it, attentato incendiario a Tertenia al rogo all'abitazione di un imprenditore. L'attentato incendiario è avvenuto il 4 novembre intorno alle 20 nella Marina di Sarrala. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che sono stati impegnati ora per domare le fiamme che si sono propagate anche all'esterno dell'edificio. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Ierzu e di Tertenia. E concludiamo con Cagliari Pad con la cronaca. Arriva dal Corriere della Sera un'indiscrezione, il G7 2017 alla Maddalena, incontro tra Renzi e Pigliaru. L'indiscrezione è lanciata dal quotidiano milanese, l'idea di riorganizzare il G7 del 2017 in quel paradiso naturale che doveva essere la sede del G8 del 2009, poi fatto traslocare all'Aquila da Silvio Berlusconi è più che una semplice suggestione. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.